Nullius Coloris Homo Nullius Coloris Homo Nullius Coloris Homo Nullius Coloris Homo Il titolo del quaderno Nullius Coloris Homo è già nello stile del professor Giulio Canella qualcuno che scrive questo mio stato di ragionevolezza che non può afferrare e affermarsi questo mio stato di incoscienza cosciente questo mio stato di intuizione presente più orribile dell'imbecillità della pazzia ebbene questo non può essere la lingua di un simulatore facciamo un esempio ancora più noto William Shakespeare era un nome d'arte di John Florio a cui si deve il dizionario di inglese italiano in cui si trovano le parole tutte le parole dovremmo dire di Shakespeare l'analisi è semplice per intendere se l'uomo di Stratford o John Florio erano il vero Shakespeare leggere per esempio i due testamenti il testamento dell'uomo di Stratford e il testamento di John Florio la lingua è decisamente altra e inequilocabilmente è quella di John Florio la lingua di John Florio è la stessa di Shakespeare mentre la lingua dell'uomo dal nome somigliante è appunto altra le ragioni del non riconoscimento sono altre l'ideologia agricana non ammette che il più grande scrittore inglese non lo fosse occorre il laboratorio linguistico di John Florio per produrre Shakespeare con quello dell'uomo di Stratford non si va da nessuna parte perché Giulio Canella non è stato riconosciuto in vita nemmeno come lo smemorato di Collegno quasi che potesse lo smemorato di Collegno essere un altro nome da evitare in modo assoluto cioè l'uomo di nessun nome a un certo punto solo la Chiesa molti anni dopo la morte di Giulio Canella emigrato in Brasile patria della moglie Giulia ha riconosciuto i fatti ridando anche il nome del padre a tre figli nati dopo l'amnesia che per la legge italiana sarebbero ancora figli di Mario Bruneri il nome dell'altro il pretendente al nome che ha fatto perdere le sue tracce per sempre il cui reperimento tra l'altro avrebbe permesso già all'epoca di non aprire il varco a questa estrema ingiustizia Cristina Dalbon pur avendo una pratica analitica di casi di amnesia avendo lavorato in un ospedale militare di Parigi non interviene in esperta in super esperta ma come una storica un archivista che ha potuto infine consultare il archivio riaprire le pagine di un dossier inchiuso in fretta e furia da due istanze sociali prese in una gestione perversa che quando marciano insieme non lasciano scampo Cristina Dalbon fa un paragone con l'affaire Dreyfus ma potremmo stabilirne anche altri per esempio con Torcola Cristina Dalbon apre gli archivi in modo civile confronta le testimonianze legge gli inediti e pone questioni inerenti solo a questi materiali a nota più di una volta che la lettera anonima che scatena la caccia al nome di Giulio Canella non si trova in nessun archivio peraltro se noi cerchiamo una teoria del nome o una teoria dell'impostura non la troviamo nel libro di Cristina Dalbon che ha ridotto al minimo le questioni psicoanalitiche emergenti dai documenti è una scelta di scrittura civile e non teorica anche se peraltro il suo lavoro da archivista non è andato senza teoria nel senso che non è un caso che sia una psicoanalista a occuparsene questo non è valido ma un libro sulla teoria del nome e sulla sua innegabilità non avrebbe chance di essere letta anche da un puglio di persone bene che vada dai 25 lettori a cui aspirava Alessandro Mazzone e neanche la diffusione di questa di questa storia che ha avuto diritto anche a un film comico di con Totò e può darsi appunto che non attirerebbe un testo scritto come uno dei casi di Sigmo Freud la scelta della modalità letteraria vuole offrire l'occasione anche a chi non ha mai letto un testo sulla teoria della nominazione di intendere lo specifico del caso Giulio Canella noi non ripetiamo il libro lucido e chiarissimo di Christine Dalbon adesso esiste l'archivio è aperto va assolutamente letto non solo dei pochi intellettuali lucidi che restano in Italia ma dalle multitudini in particolare da quella mezza Italia che aveva preso Giulio Canella per un impostore che aveva quindi seguito gli ordini di scuderia mediatica dell'epoca che venivano dalle due agenzie distinte di cui stiamo facendo riferimento più volte quella dell'esercito e quella della chiesa tra questi che presero Giulio Canella per un impostore ci furono anche Cesare Musatti che era presidente della situazione degli psicanalisti freudiani in Italia e quella di Leonardo Sciascia considerata una coscienza civile della società ma su questo caso ha fatto forse la propria sbagliata strada non c'è nulla di macchinico di automatico di predeterminazione delle istituzioni sul singolo il caso Giulio Canella esula anche dai casi che non possono che esserci per le esercizio abusivo del principio del terzo escluso nel senso che occorre in ogni caso la carne dell'uomo per incarnare questa opera istituzionale che c'è già nelle basi degli aspetti sociali dominanti esercizio del terzo escluso che arriva alla sua apoteosi con i campi di eliminazione industriale degli ebrei con il nazismo ma le istituzioni sono fatte dagli umani e ciascuno ad assumersi la sua responsabilità nel caso Canella utilizzato mediaticamente come circo di distrazione rispetto alle questioni di vita prerogativa prerogativa tra l'altro che non è un'esclusiva del ventennio fascista si sono saldate le due anime fittizie del governo degli umani lo Stato e la Chiesa la cosa militare e la cosa religiosa non si tratta di fare l'analisi del porco per intendere la proibizione di mangiarlo in due dei tre monoteismi in tal senso non si tratta di denunciare l'orgoglio della polizia per le sue nuove indagini scientifiche attorno alla grafologia grafologia scientifica che nel ventennio si era sbagliata nella lettura delle impronte digitali oppure si potrebbe parlare dello strabismo come chiamarlo interpretativo di padre gemelli o l'incompetenza della diagnosi di uno psichiatra rispetto a quella di un altro che non trovava tracce peraltro di impostura certamente le due strutture esercito e chiesa permettono persino la cancellazione dell'identità di un cittadino e proprio in un momento di estrema difficoltà dopo aver servito il suo paese in guerra e aver vagato scosso da questa guerra per quasi dieci anni prima di presentarsi una mattina a Torino dove è cominciata questa avventura con il titolo dello smemorato di Collegio ci sono vari responsabili dall'anonimo dell'attore di un'impostura e poi appunto l'impostore è l'anonimo denunciante e poi l'accusa di impostura è quella che pende su Giulio Canella a Padre Gemelli e alla sua nomea che ancora oggi risuona gli è dedicato l'ospedale il grande ospedale di Roma tra gli psicanalisti anche a proposito del suo ostracismo alla psicanalisi risuona questa voce di Gemelli quando noi rifacciamo la storia della psicanalisi in Italia ci accorgiamo che un baluardo contro l'introduzione della psicanalisi è stato proprio Padre Gemelli dal libro di Cristina Dalbon si intende che Gemelli prima sbatte fuori dalla rivista di filosofia fondata e diretta da Giulio Canella lo stesso fondatore e direttore e poi innaferisce quando Giulio Canella combatte contro la sua amnesia va per un riconoscimento e dice che non è lui e tra l'altro Giulio Canella dirà che non lo riconosce proprio ma può rintendere in un altro senso questa affermazione che tra l'altro è precisissima non vuole proprio riconoscere uno di quelli che è stato sul carnefice e poi c'è che Padre Gemelli è lui proprio entra proprio nella questione non rimane un personaggio minore che partecipa o meno al riconoscimento dello smemorato ma Gemelli sceglie l'avvocato della famiglia Bruneri e famiglia che tra l'altro si asterrà ovviamente dall'analisi del sangue per un confronto sulla paternità cioè ogni movimento in direzione di una possibilità di distinguere nel riconoscimento tra Canella e Bruneri dalla parte dei Bruneri e verrà sempre evitata ma appunto non è questa analisi che noi dobbiamo fare anche se occorre tenerne conto la Chiesa poi appunto ripristinerà la verità a partire dal più moderno testo del DNA questione da riprendere che non va da sé anche questa Giulio Canella è in difficoltà la sua vita non è stata facile filosofo convinto scriverà di filosofia sino alla fine dei suoi giorni è sconvolto dalla guerra la sua fede cattolica vacilla radicalmente e non può ammetterlo gli resta un interesse per Nice anomalo per un cristiano per quanto aperto alla questione sociale quando torna dopo quasi dieci anni di arranza dal primo dopoguerra è irriconoscibile e la mentalità corrente esigerebbe da lui un riconoscimento di una efficienza che richiederebbe per l'appunto di non essersi mai andato in guerra e di non essersi mai confrontato con i suoi orrori che solo nei film correnti in televisione sono trascurabili nell'attacco contro Giulio Canella non c'è la materia del suo caso di vita del suo smarrimento del suo dolore della sua arranza della sua incoscienza cosciente un uomo che molla il consorzio umano per sopravvivere ai suoi bordi come un mendicante che cede sulla vita in un modo socialmente disapprovato coloro che cedono i modi socialmente approvati apparentemente invece tengono come i bevitori incaliti in pubblico ma questo ancora adesso per esempio non è permesso alle donne ebbene un uomo che vacilla per anni e anni non può ritrovarsi lucido e rispondere presente ai vari funzionari di quella società che l'ha mandato in guerra questo anche rispetto alla difficoltà nei riconoscimenti la facilità dell'accusa di impostura e il suo seguito di teoria sessuale infantile che un altro si sarebbe spacciato per Giulio Canella per sopravvivere in una vita per interposta persona per godere dei favori di una donna che avrebbe accolto un sostituto come perversa del godimento nomico del godimento senza legge e questa lettura questa facilità dell'accusa è favorita dalla struttura di finzione sociale che dalla filosofia alla psicanalisi all'antropologia e non solo in Francia dove è sorta viene chiamata soggetto in che senso questo? secondo una lettura semplicistica di Totem e Tabù di Freud ognuno vivrebbe come i sogi di se stesso vivrebbe da travestito da travestito dell'animale totemico se il Totem è ciò che resta dello specchio di Dio di Dio come specchio gli uomini sarebbero fatti più che a immagine di Dio che tanto se è immagine di Dio è un Dio gnostico sono fatti a immagine dell'animale sono fatti a immagine dell'animale totemico e quindi ritualmente lo uccidono e si restano dei suoi panni ne emitano la voce portano le sue tracce sul corpo questa è potrebbe essere in breve una facile teoria del travestitismo sociale per cui ognuno vive al posto di un altro ognuno addirittura vive al posto di se stesso piuttosto che correre il rischio di vita vive come la coppia di se stesso si può leggere in questo modo e questo però cosa comporta che solo nel ritratto dell'altro si troverebbero i propri tratti non più riconoscibili come i propri tratti per cui insomma è un popolo di impostori che accusa di impostura Giulio Canella e che pensa di essere quell'uomo che va nel letto di una donna che non è la propria moglie è una questa assunzione totemica ha come attraffaccia questa fantasia di di incesto e sarebbe questa favola sarebbe l'escamotage di un popolo di impostori per aggirare il tabù dell'incesto ogni uomo non ciascuno avrebbe voluto essere questo approfittatore di questa donna e ogni donna avrebbe voluto essere se 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 la condizione dell'escamotage funziona questa donna che può prendersi nel letto uno sconosciuto è una fantasia tatemica semplice da leggere ma il popolo con come avanguardia avanguardia militare l'esercito e la polizia e l'avanguardia religiosa la chiesa stessa ha marciato molto dritto in questo fantasma totemico e tabuico riconoscere nell'altro l'impostore è in modo più banale di non accorgersi di vivere la propria vita come un impostore i cortocircuiti molto noti a suono dei cadaveri in famiglia senza questa analisi rimangono perfettamente insoluti non è chiara questa frase tutti i casi di raptus di ammazzamenti dove le testimonianze dei vicini del villaggio dei parenti dicono era una bravissima persona si possono intendere solo facendo un'analisi che stavano vivendo come impostori stavano vivendo come doppi di se stessi se un padre e una madre cattolici osservanti istruiti del ceto medio possono programmare il loro suicidio e l'omicidio dei propri figli come è accaduto qualche anno fa a Verona è perché la loro vita era una fiction i casi sono legione questo in modo laico quasi non si può dire è tollerato se rientra meno nel soco religioso infatti nel caso della strage citata il vescovo nell'omelia intervenne contro l'assenza di valori religiosi nella società per poi inzittirsi nella constatazione che i colpevoli e gli innocenti di quella famiglia ogni domenica erano in chiesa e tutti li stimavano come timorati di Dio ovviamente anche la passione per la caccia e i fucili in casa non possono quasi mai diventare materie di analisi nemmeno dopo la recente strage negli Stati Uniti perché la questione non è semplicemente anche se c'è quella di ridurre o proibire il porto d'armi nelle case questo libro di Cristina Dalbon è stato reso possibile dall'amicizia che lealmente e intellettualmente l'ha legata a Giulio Canella Giulio Canella come pronuncia perdon nipote di Giulio che tornò in Italia a Verona a seguito del padre Beppino che aveva l'intenzione di far riaprire il caso ma la vita non gli ha dato il tempo occorrente Giulio ha aperto le porte a Cristina Dalbon che ha letto l'archivio di Famiglia Canella della Famiglia Canella conservato nel seminario vescovile lo scempio è stato perpetrato al punto che il test del DNA tranciando oggi tra innocentisti e colpevolisti potrebbe servire anche a cancellare l'infamia di coloro che lo hanno attaccato in quanto o di più essenziale abbia un uomo il suo nome pur senza essere un nome di Dio in ebraico Dio è il nome anche senza applicare la narrazione biblica della Dimagine Dei ognuno può intendere quanto la pratica di cancellazione del nome ridotto a numero tatuato negli avambracci dei prigionieri nei campi di sterminio sia nefasta questa cancellazione del nome e nel caso di Giulio Canella si è trattato proprio di questo di una congiura contro il nome di un uomo innocente certamente come alibi rispetto come antidoto rispetto alla possibilità che questa modalità di annientamento possa dirigersi verso qualunque altro un altro paragone sempre peraltro impossibile sarebbe da fare con K nel processo di Franz Kafka ma Giulio Canella è un caso di vita estrema non è un caso letterario la lettura non è del DNA ma dello stile di scrittura di Canella bastava leggerlo per accorgersene è quello che ha fatto Christine Dalbon con l'uomo di nessun colore la vera storia dello smemorato di Collegno libro che è tradotto dal francese a cura di Camilla Testi con una presentazione dell'ipote di Giulio Canella Giulio Canella Grazie